eccolo la settore della reggiana che gli altri del 60 il pullman del parma fa questo giro fontana parma calcio 1913 di sant'ilario ah forse sì raccontato eccomi dai 19 e 15 mapei stadion città del tricoletto questa è una cosa che vorrei capire c'è stato il fallimento c'è stata l'han portato a casa per quando mi dicevo che si vede per perdersi è uno dei motivi di sa quanto odio c'è da parte degli ultra della reggiana nei confronti del sassuolo una metà rispetto a quello del parma rispetto al parma però siamo lì e esulteranno per la retrocessione del sassuolo se ci sarà non è neanche detto un abbraccio grazie se partono così significa che qualcosa c'è se partono così vuol dire che qualcosa è strano come indietro c'è un ragazzo attraversato e poi andiamo succede